Eccoci qua carissimi amici, buongiorno. Sono qua oggi per mostrarvi questi due modellini. Arrivati da poco a casa mia, abbiamo un'auto e un camion. Iniziamo subito dal camion OM Leoncino, porta bottiglie del 1962. Modello riprodotto fedelmente in scala, entrambi in 1.43. Bellissimo. Porta bottiglie. Qua abbiamo il retro. Vediamo un po' le sue caratteristiche tecniche. Eccole qua, se si vedono. Abbiamo la portata 2.500 kg. La massima velocità è di 77 km orari. E così via. Vediamo il frontale. Eccolo. E passiamo subito all'altro mezzo. Qua abbiamo una Lancia Fulvio Coupé. E con questo voglio subito salutare l'amico Marvin, grande appassionato di Fulvio Coupé. E te la dedico, guarda qua. Lancia Fulvio Coupé Rally del 67. Bellissimo anche questa. Entrambe in confezione originale. Ed eccoli qua. Voglio salutare tutti gli amici, quelli che mi seguono e nonne, e anche l'amico Alessio Rocca. Ciao a tutti. Ciao a tutti.